E hai dei figli, Douglas? Centinaia. Ti riferisci ai tuoi cani? Sì, sono i miei bambini. E il loro amore mi ha salvato migliaia di volte. Gli devo la vita. Direste di amare i tuoi cani più di quanto ami gli esseri umani? Assolutamente. Più conosco gli umani e più amo i cani. Invece hai mai avuto una relazione romantica? Non avevo mai incontrato nessuno come lei. Lei era tanto bella. I cani non mentono mai quando parlano di amore. Avevo forse nove anni quando me ne sono reso conto. Ero vivo finalmente. Per quanto ne so io, hanno soltanto un difetto. Si fidano degli umani. Ancoracedes la cancelled per la stiamme. Qua trampa sta per il grupo da i da maria di tosiamoni. Abbiamo conneecione di amore.